Franco Iacucci, commissario del PD provinciale di Crotone, ha convocato il tavolo del centro-sinistra per decidere il candidato che avrà l'onere di guidare la coalizione che si riconosce nei valori democratici e nel programma redatto con serietà e rispetto della collettività e con l'obiettivo di ridare dignità e fiducia alla nostra città di Crotone. All'incontro erano presenti i rappresentanti di PD, Europa Verde, i riformisti, Movimento per il Sud, l'altra Crotone con Grillo Sindaco. Il candidato a sindaco che è stato individuato dai convenuti dopo un'ampia e articolata discussione che ha toccato i punti salienti delle problematiche cittadine è quello dell'avvocato Gaetano Grillo, figura già nota alla collettività sia dal punto di vista professionale che politico in quanto ha ricoperto la carica di sindaco in tempi passati. Una scelta della coalizione si elegge in una nota accorta e ben ponderata questa di Grillo che seppur non rappresenta la voglia di giovanilismo che da più parti si sta rincorrendo come garanzia di successo va sicuramente incontro alla priorità che in questo momento ci si deve prefiggere per la città cioè avere alla sua guida persone esperte sia dal punto di vista amministrativo che politico che possa ridare speranza nel futuro ma soprattutto guidarla con assoluta rettitudine, legalità, trasparenza e fermezza.